La parola al professor Marco Cosentino, dottore di ricerca in farmacologia e tossicologia, ordinario di farmacologia nella scuola di medicina presso l'Università dell'Insubria di Varese. Grazie Presidente, onorevoli senatori, grazie per l'invito. Io chiedo subito degno, sono un medico, ma sono prima di tutto un ricercatore e di conseguenza ho bisogno di dati sperimentali, ho bisogno di dati scientifici. Quindi ho bisogno prima di tutto di alcune diapositive poche che spero siano visibili e che volentieri... Sono visibili, la ringraziamo di accompagnare il suo discorso con dei dati, prego. Molte grazie, splendido, volentieri condivido. Allora io dicevo, io sono un medico, sono un ricercatore, parlo su questi argomenti prima di tutto sulla base della mia esperienza di metodologia della valutazione dei prodotti medicinali e più in generale di metodologia della ricerca scientifica che pratico e insegno ormai, ahimè, purtroppo da quasi trent'anni. Il punto di partenza ovviamente da cui voglio il mio primo punto è la certificazione verde che viene motivata al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza. Dico tanto è vero che anche il titolo del disegno di legge che discutiamo oggi parla di misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro. Allora io ricordo prima di tutto a me stesso come si dice che i Green Pass sono concessi a chi abbia completato un ciclo vaccinale, chi sia guarito da Covid o chi sia sottoposto a un tampone per la ricerca del virus con esito negativo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il pass si fonda sugli assunti che la non contagiosità sia garantita dalla vaccinazione, dalla guarigione o dall'esito negativo di un tampone. Allora queste tre condizioni. Il primo assunto è falso semplicemente, il secondo non è adeguatamente documentato anche se insomma non so perché, il terzo è ragionevolmente vero. Sul secondo e sul terzo ho predisposto una memoria che ho messo a disposizione della commissione di tutti gli interessati e invece in questi pochi minuti mi voglio soffermare sul primo punto e il primo punto lo voglio trattare in maniera, io credo, spero, molto semplice partendo da uno studio che non è contenuto nella memoria che ho predisposto ma che è recente e che è stato proposto dai principali mezzi di informazione nei giorni scorsi, e questo è il Corriere della Sera del 2 ottobre scorso, come una sorta di prova regina che dovrebbe giustificare l'impianto del PAS. Vedete il titolo, Covid, i vaccinati non contagiano come i non vaccinati. È esattamente il predisposto del PAS. Ora, questo articolo si basa su uno studio, dal mio punto di vista molto bello e molto solido, veramente interessante, che vorrei vedere nei suoi tratti generali insieme e prima di tutto per mostrare come in realtà spesso, e questo è un ottimo esempio, i mezzi di informazione, la comunicazione pubblica nostra, spesso fraintenda, malintenda, non so bene per quale motivo, gli studi scientifici, che in realtà ci dicono cose molto solide e molto concrete. Questo è lo studio disponibile sulle piattaforme MedArchive, che tutti abbiamo imparato a conoscere in questo periodo. Questa è la struttura dello studio. Il studio, ripeto, dal mio punto di vista è estremamente bello e interessante. Ha preso in considerazione, è stato svolto dall'Università di Oxford, da ricercatori estremamente qualificati, è stato svolto su dati pubblici del sistema sanitario inglese, altrettanto molto solidi e molto ampi. Ha preso in considerazione casi indice, cioè soggetti identificati come positivi, vedete quasi 96.000 casi, i quali sono stati sottoposti a tracciamento di contatto. Questi hanno avuto oltre 139.000 contatti testati, il 37% dei quali, quasi 52.000, sono risultati positivi. Quello che i ricercatori hanno fatto è stato studiare le caratteristiche che sono correlate a questo passaggio di positività, cioè alla contagiosità dei casi indice. Allora, il titolista del Corriere della Sera, io credo, ha sicuramente letto una parte di questo studio. Probabilmente ha letto questa parte, la quale dice che nei casi indice il fatto di essere stati vaccinati, cioè i casi indice vaccinati rispetto ai non vaccinati, effettivamente apparentemente contagiano meno. Abbiamo sentito prima che la variante alfa non è più in circolazione né in Inghilterra né in Italia, quindi insomma concentriamoci sulla delta. Vedete che il fatto di essere vaccinati con l'uno o con l'altro dei principali vaccini inglesi ma anche italiani riduce in media del 50%, meno 65%, meno 36% la positività di contagiare, la possibilità di contagiare. È un buon dato, è un buon dato dal punto di vista medico, dal punto di vista clinico, dal punto di vista epidemiologico. Riduce del 50%, non la zera, punto uno. Punto due, manca sempre quando si parla di questi dati, la dimensione temporale. Ma in questo studio c'è la dimensione temporale. La dimensione temporale è questa. Questo dato, meno 50% in media, dopo 12 settimane dalla vaccinazione non c'è più. Questo studio ci dice piuttosto chiaramente che dopo 12 settimane, quindi 3 mesi scarsi dalla vaccinazione non c'è più alcuna differenza nella trasmissione della variante delta tra vaccinati e non vaccinati. Questo è un primo dato, io credo va considerato, 3 mesi rispetto alla validità del Green Pass di 12 mesi, 12 meno 3 fa 9 mesi, questi 9 mesi alla fine vaccinati o non vaccinati sono uguali. Primo punto. Questo studio ci dice altre due cose, dal mio punto di vista abbastanza, ce ne dice tante, ma ci sono un paio di cose altrettanto interessanti che mi piace condividere. I contatti che hanno portato ai contagi si sono verificati per l'80% in ambiente domestico, solo il 20% in luoghi pubblici, solo il 10% sui posti di lavoro e a scuola, solo il 10% sui posti di lavoro e a scuola. Davvero ci stiamo preoccupando di luoghi pubblici che rappresentano una minoranza delle situazioni in cui si verificano i contagi. Ultima cosa, altra cosa che ci dice questo studio, ripeto, molto solido, molto ampio, e piacerebbe leggere tantissimi studi come questo, indipendentemente dall'essere o meno vaccinati, essere positivi e asintomatici riduce la contagiosità del 39% verso la variante Delta. Quindi tanto quanto un vaccino, poco meno dell'altro vaccino preso in considerazione, indipendentemente dall'essere o meno vaccinati. Basta essere positivi ma asintomatici, la famosa questione di quanto contagiano gli asintomatici. E allora, io vado alle conclusioni, è abbastanza semplice, mi scuso per la semplicità, ma ripeto, io sono un ricercatore sperimentale, clinico, guardo ai dati e imparo sui principi generali, però mi sembra che si possa riassumere. Uno, la vaccinazione riduce la contagiosità, abbiamo detto in media del 50%, da un terzo a due terzi, ma soprattutto per non più di due o tre mesi. Questo va tenuto presente, epidemiologicamente va tenuto presente, sicurezza e sanità pubblica. L'ottanta per cento dei contagi si verifica in ambiente domestico, solo il 20% in luoghi pubblici, come ci siamo detti. I positivi asintomatici, vaccinati o meno, sono contagiosi tanto quanto i vaccinati, ma nei primi due o tre mesi. Dopodiché i vaccinati ritornano a essere uguali, identici ai non vaccinati. Quindi io credo che non si possa non condividere che l'assunto principale su cui si regge il pass, cioè che i vaccinati non contagiano, a me pare totalmente infondato, non è sostenibile. Poi possiamo dirci quello che vogliamo da un punto di vista politico, ma la scienza, come si dice, soprattutto le evidenze scientifiche, le evidenze cliniche, non lo sostengono. Di conseguenza la conclusione, a mio modo di vedere, non può essere che salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come a scuola, in università, sui mezzi di trasporto, in qualunque altra sede, sono tutelate e promosse, io credo, essenzialmente, come già ci stiamo dicendo, favorendo l'accesso libero, facilitato, semplice, ai tamponi. Sottolineo tamponi di qualunque genere, attenzione, perché per motivi che io credo che siano stati detti da chi mi ha preceduto anche nei giorni scorsi, molto più autorevolmente di quanto possa dire io, perché questo è un po' al di fuori, insomma, della mia esperienza, tamponi che per la verifica della negatività in soggetti in apparente condizioni di salute garantiscono le migliori prestazioni. Io vi ringrazio per l'attenzione e volentieri risponderò a domande. Grazie, professor Cosentino, la parola...